Onorevolissimi i nostri generali, che ogni campione mi sia presentato! In questo giorno di festa, in chi diamo il capo, sono dinanzi alle realtà, coraggio e fierezza! Ha sconfitto a malinude i più terribi amazzanai, ha salvato il popolo dall'assalto degli ipoglifi e anche le chimere tremano sentendo il suo nome! Novi uomini e novi donne del regno, risultate per il campione della contrea della torre mistica, Sir Arthur D. Cedric! Novi uomini e novi uomini! 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 Ha sconfitto un veloce congre che mi stai a vedere! È più forte di qualsiasi maledicio! E si dice che le mani dei più potenti abbiano forgiato gli scambi con il fuoco in piazza l'ultima felice! A te le delfi! Resultate per il campione della contrea del lago delle fate, Sir Lawrence D. Hennibok! Novi uomini e novi uomini! Novi uomini e novi uomini! Ascolto un fitto numerosi Draghi! Resultate per i più feroci giganti che popolano i conti del regno! e non teme alcun nemico caccia tu in generale